Un'area di relativa bassa pressione sul Mediterraneo o centro occidentale mantiene attivo un flusso di correnti umide meridionali sulle regioni tirreniche. Martedì 27 luglio in Toscana generalmente nuvoloso, con ulteriore aumento della nuvolosità tra la tarda mattinata e il pomeriggio, con possibilità di rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle zone interne settentrionali della regione. Miglioramento in serata. Venti deboli meridionali con rinforzi su costa e arcipelago, ma rimossi temperature pressoché stazionarie. Sulla nostra provincia cielo nuvoloso, con possibilità di rovesci nel primo pomeriggio. A Lucca temperatura minima 22, massima 33 gradi. A Castelnuovo minima 20, massima 29 gradi. A Viareggio minima 23, massima 29 gradi.